Buonasera, benvenuti a tutti, vi do il benvenuto a questo webinar di presentazione del primo premio nazionale per le competenze digitali. Come sapete questo premio nazionale per le competenze digitali è organizzato nell'ambito di Repubblica Digitale che è l'iniziativa promossa dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per combattere il divario digitale di carattere culturale della popolazione italiana per sostenere l'inclusione digitale per accompagnare in genere il processo di trasformazione digitale del Paese. Nell'ambito di Repubblica Digitale sono state organizzate numerose iniziative, è stata elaborata una strategia nazionale per le competenze digitali relativo piano operativo che hanno l'obiettivo proprio di valorizzare i progetti già in corso e sviluppare anche delle azioni di sistema necessarie. Veniamo quindi a questo premio nazionale per le competenze digitali. Noi siamo molto contenti di presentarvelo, questa prima edizione del premio è organizzata dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale con il supporto del Formez, questa prima edizione come avete visto è rivolta quindi alle competenze digitali dei cittadini, poi le successive edizioni del premio potranno avere dei target più specifici. Qual è l'obiettivo del premio? Allora diciamo che in questo seminario noi vogliamo proprio presentare i contenuti del premio, gli obiettivi, i destinatari, cercheremo di fornirvi tutte le informazioni utili a presentare la candidatura. Questo premio quindi ha l'obiettivo di individuare le buone pratiche, valorizzare progetti, iniziative e di sviluppo delle competenze digitali che siano rivolte ai cittadini e che siano realizzate da pubblica amministrazione, dalle imprese e dal terzo settore. Vedremo poi più in dettaglio con i relatori del webinar quali sono proprio le categorie previste da questo premio e quali sono i soggetti che possono partecipare e le tipologie di iniziative che possono essere presentate. Il premio è attivo dal quindici novembre, quindi da lunedì scorso. Abbiamo già ricevuto alcune candidature e la candidatura va presentata entro il diciassette gennaio. Quindi c'è tempo e noi speriamo che in questo periodo voi riusciate ad avere tutte le informazioni utili e necessarie per cui più persone, organizzazioni possano candidare le proprie iniziative. Questa edizione del premio è gestita attraverso la piattaforma Partecipa. Più tardi con i nostri relatori vedremo anche proprio la piattaforma del premio e quali sono le sezioni utili nelle quali voi trovate tutte le informazioni e come si presenta la propria candidatura. Quindi veniamo al programma del seminario di questo pomeriggio. Abbiamo Nello Iacono del Dipartimento per la Trasformazione Digitale con il quale parleremo proprio del premio nel contesto delle iniziative di Repubblica Digitale. Con Isabella Bruni del Dipartimento per la Trasformazione Digitale Università degli Suoi di Firenze vedremo invece più nel dettaglio in cosa consiste questo premio, quali sono i contenuti, quali sono gli obiettivi, i destinatari, i requisiti, quali sono le fasi previste dal premio. Avrete visto se avrete già navigato nella piattaforma che nella piattaforma Partecipa che sono previste diverse fasi. C'è anche una fase di voto del pubblico quindi vedremo in dettaglio tutti questi aspetti. Con Michela Di Bitonto del Formez poi vedremo in particolare invece lo spazio dedicato al premio sulla piattaforma Partecipa. Come vi dicevo qualcuno di voi l'avrà già vista, c'è uno spazio con uno spazio informativo, c'è il regolamento del contest che è fondamentale leggere e analizzare bene prima di partecipare, c'è poi il form per la presentazione della candidatura, c'è anche una sezione di FAQ. Quindi con Michela Di Bitonto vedremo in dettaglio come funziona proprio la piattaforma Partecipa. Al termine del seminario è previsto uno spazio per le domande e risposte quindi vi chiedo di scrivere in chat le domande che avete per i relatori e le poniamo noi ai relatori tutti insieme alla fine del seminario. Questo webinar dura un'ora quindi chiediamo ai relatori a ciascuno di stare nei tempi dei 15 minuti. Il webinar è registrato quindi da questo pomeriggio troverete sempre su Eventi PA dalla scheda a partire dalla quale vi siete iscritti, troverete il link alla registrazione e anche i materiali dei relatori nel caso vi foste persi qualcosa. A questo punto do la parola a Nello Iacono, il primo relatore di oggi. Interrompo la condivisione del mio schermo. Nello? Grazie Roberto. Perfetto, ti sentiamo. Vai. Perfetto, allora vado subito a condividere lo schermo. Penso che si veda. Io farò. Sì, ti confermo che si vede. Perfetto, grazie. Farò solo un breve inquadramento del premio all'interno appunto dell'iniziativa Repubblica Digitale e quindi del perché abbiamo pensato di promuovere questo premio e dove si inserisce che obiettivi abbiamo. Noi tutti sappiamo che abbiamo un significativo problema di inclusione digitale. I numeri, almeno gli ultimi rilevati nel fine del 2019, ci dicono che ci sono circa 26 milioni di italiani da 16 a 74 anni che non hanno adeguate competenze digitali digitali di base e che diciamo che anche sono a rischio non solo di esclusione, ma anche di essere diciamo preda di truffe, disinformazioni, hanno difficoltà anche a crearsi un'opinione, a utilizzare i servizi e di questi appunto sappiamo che circa tra 10 e 11 milioni non utilizzano internet, ma tutti gli altri appunto sono su internet senza queste adeguate competenze digitali di base. Noi abbiamo pensato di avere diciamo questo target, questo insieme di persone come principali destinatari delle iniziative su cui lavorare rispetto al premio. Come diceva Roberto, ora vediamo un po' perché. Repubblica Digitale, per chi non lo sapesse, appunto è una iniziativa multi-stakeholder, nel senso che sia nel comitato tecnico guida che la coordina sono presenti, elementi, soggetti istituzionali del mondo pubblico ma anche privato e poi anche del terzo settore che dell'università, della ricerca, del territorio che appunto cerca di essere rappresentativa dell'insieme diciamo dei soggetti che possono essere interessati a far sì che appunto ci sia un sviluppo delle competenze digitali a 360 gradi nel nostro paese. Abbiamo un componente importante nella coalizione nazionale che mette dentro circa 200 organizzazioni con più di 250 iniziative anche qui del pubblico, del privato, del terzo settore e diciamo collabora strettamente con la coalizione europea e poi anche ci sono dei momenti in cui apriamo anche la consultazione ai cittadini. Diciamo questi sono gli attori di Repubblica Digitale che si muovono rispetto a una strategia come diceva, come permetteva Roberta, è una strategia per le competenze digitali che è stata approvata a luglio del 2020 e un piano operativo che ovviamente viene, è stato pensato come in continuo miglioramento che è stato pubblicato per la prima volta a fine del 2020 e è strutturato rispetto a quattro assi di intervento che sono anche quattro pilastri definite a livello europeo sul tema, sull'ambito delle competenze digitali. E quindi quando parliamo di Repubblica Digitale, quando parliamo di sviluppo delle competenze digitali, parliamo a 360 gradi di tutto ciò che è utile sia per la cittadinanza digitale, sia per il lavoro, sia per essere protagonisti attivi nella nostra società. E quindi si va da azioni che sono relative all'istruzione e formazione, alla forza lavorativa, pubblica e privata, alle competenze specialistiche ai cittadini. Quindi una strategia complessiva e un piano operativo che vuole far sì che appunto tutte queste componenti possano vedere delle azioni coordinate e che appunto grazie alla loro integrazione possano permetterci prima di tutto di far sì che ci sia l'adeguata consapevolezza digitale nel paese e poi anche pensando all'ambito del lavoro e in particolare anche al settore ICT ci siano le adeguate competenze per far sì che dal punto di vista socio-economico l'Italia possa avere un recupero e una progressione che ci permetta di essere appunto tra i paesi guida rispetto ovviamente al poterci confrontare rispetto ai paesi da noi più simili come dimensioni e come tipo di struttura sociale. Abbiamo condensato all'interno del, abbiamo definito all'interno del piano operativo dei valori target da raggiungere, alcuni li vedete qui adesso, il piano operativo che è ovviamente in corso di continuo raffinamento e miglioramento vede più indicatori di impatto e quindi anche dei percorsi di miglioramento tracciati proprio per permetterci di fare in modo che sulle competenze digitali noi riusciamo a creare le condizioni per un miglioramento, diciamo così come ci si attende da un paese come l'Italia e questi indicatori, questi valori target sono ovviamente basati sull'analisi sia di comparazione con gli altri paesi ma anche di relativi alle esigenze di sviluppo che abbiamo nel nostro paese. Nel piano operativo ci sono più azioni e queste azioni sono in stretta correlazione tra di loro per cui sono in stretta correlazione sia azioni che sono lanciate a livello istituzionale come vedete qui ad esempio il servizio civile digitale piuttosto che il potenziamento della rete dei servizi di facilitazione digitale che sono due progetti che sono inclusi anche nel piano di ripresa e resilienza e poi ovviamente tutto si integra non soltanto con la palestra digitale quindi un'iniziativa per l'apprendimento dei cittadini ma anche con tutte le iniziative della coalizione nazionale ed è questa l'integrazione, diciamo la forza del programma. Quello che ci proponiamo di fare è che questa parte di iniziative appunto che si integrano e spingono verso una risultati sempre più significativi diciamo siano ancora più spinte e incoraggiate ad essere ad avere alcuni criteri di qualità e di efficacia e possano essere e possono non soltanto confrontarsi con le altre iniziative e con le altre esperienze ma possono essere in qualche modo dei tasselli attraverso cui si possono formare anche dei modelli, dei riferimenti utili per tutti coloro che appunto su questo fronte pensano che si debba investire. Per cui ci rivolgiamo sia alle iniziative che sono già all'interno della coalizione nazionale sia a quelle che ancora non lo sono, proprio nella logica di far sì che possano emergere esperienze di successo, che queste esperienze si confrontino appunto con i criteri di valutazione di cui adesso parleremo e dall'altra parte quindi facciano anche risalire delle lezioni apprese e dei percorsi ripetibili che possano essere anche da leva e da spinta per creare azioni altrettanto efficaci anche in aree dove questo non succede. Quindi è molto importante per noi appunto non soltanto l'espressione dell'esperienza ma come questa esperienza può integrarsi anche con con altre e possa essere applicata, riutilizzata e attuata anche in diversi contesti. Ovviamente tutte le azioni, tutte le esperienze, i progetti che si candideranno e che non sono già nella coalizione nazionale, poi ovviamente li invitiamo sin da ora ad aderire al manifesto di Repubblica Digitale perché la partecipazione a questo premio di fatto, diciamo, significa anche un'adesione al progetto complessivo nazionale di Repubblica Digitale e quindi anche ai suoi obiettivi. Quello che il percorso che verrà dettagliato successivamente vede poi l'assegnazione del premio nazionale intorno a marzo e l'obiettivo è di far sì che tutte le esperienze che poi vengono messe in evidenza anche con questo premio poi diventino parte integrante del piano operativo e quindi diciamo il premio in questa prima edizione si focalizza sul tema dei cittadini però l'obiettivo è di far sì che sia una parte importante del percorso che ci guida verso il raggiungimento degli obiettivi e verso il miglioramento stesso del piano operativo. Qui nella slide vedete non soltanto l'email di Repubblica Digitale per avere altre informazioni anche per l'adesione o per i vari documenti di Repubblica Digitale ma anche l'email premio competenze digitali a cui potete rivolgervi per chiedere punti specifici che magari all'interno di questo webinar non riusciamo a chiudere o comunque a chiarire del tutto. Grazie e interrompo la condizione per passare al prossimo. Perfetto ringrazio Nello Iacono e nel frattempo do il benvenuto a coloro che si sono collegati da poco. Vi ricordo che il webinar è registrato quindi potrete poi seguire la registrazione del webinar dall'inizio e avere i materiali dei relatori. Allora do la parola adesso a Isabella Bruni con la quale vedremo più in particolare questo premio. Quali sono gli obiettivi che come diceva Nello Iacono ci tengo a sottolinearlo ancora. L'obiettivo è quello di valorizzare le vostre esperienze, le buone pratiche ma al fine della diffusione di una possibile modellizzazione. Le esperienze che ci piacerebbe trovare sono anche quelle che consentono il riuso dei materiali e delle esperienze proprio al fine della diffusione e della omogenizzazione in parte delle esperienze a livello nazionale. Do la parola quindi a Isabella Bruni che vedo in video. Prego Isabella. Grazie Berta, vado a condividere il mio schermo così almeno abbiamo anche la presentazione di sottofondo. Entrerò un pochino più nel dettaglio diciamo di quelli che sono le categorie e anche un po' i requisiti per partecipare a questo premio. Parto anche dalle finalità anche se in larga misura già le avete descritte ampiamente sia te che Nello. Ovviamente l'obiettivo fondamentale è proprio quello di dare visibilità, di riuscire a mappare tutte quelle iniziative che vengono svolte sul nostro territorio nazionale che sono finalizzate a favorire lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini. Molte di queste iniziative si sono già raccolte diciamo intorno a Repubblica Digitale e al Manifesto di Repubblica Digitale aderendo formalmente a quella che è la nostra coalizione nazionale ma diciamo ci immaginiamo che ce ne siano tanti altri che ancora non hanno fatto questo passo e che magari attraverso il premio possano venire fuori e anche essere diffuse. Come giustamente sottolineava Roberta diciamo la finalità ultima del premio è sostanzialmente quella di trovare delle buone pratiche quindi comunque di andare a individuare alcune attività e iniziative che possano anche essere riprodotte in altri contesti, trasferite in altri contesti che quindi facilmente possano essere moltiplicate facilitando così lo sviluppo delle competenze digitali. e diciamo che l'ottica con cui abbiamo pensato questo premio è un'ottica vicina ai temi dell'openness quindi anche alla possibilità che magari prodotti culturali, video, risorse educative che magari sono state realizzate all'interno di una delle iniziative possano effettivamente poi anche essere riutilizzate in altri contesti facilitando così la diffusione di iniziative di questo tipo. Ovviamente il nostro poi orizzonte è proprio quello di lavorare per sensibilizzare un po' al tema della cultura digitale, della sua rilevanza anche in ottima di partecipazione verso il futuro in modo da superare il problema del digital divide che invece in questo momento caratterizza anche la nostra popolazione. Il premio è rivolto a diverse tipologie di organizzazioni quindi ovviamente guardiamo alle associazioni e agli enti del terzo settore che sono molto attivi anche nell'ambito delle competenze digitali così come alle pubbliche amministrazioni diciamo sia a livello locale che a livello centrale a enti diciamo di formazione più strutturati e di ricerca come possono essere le università e non ultimo ovviamente anche al mondo delle imprese che sicuramente dà grandi contributi anche in quest'ottica. E l'idea è quella di riuscire a mappare e quindi insomma a vedere come candidate iniziative che si siano svolte negli ultimi tre anni o che siano ancora in corso quindi diciamo anche iniziative nate a monte della pandemia ma che sicuramente hanno dovuto in qualche modo ripensarsi alla luce di quello che è stato sicuramente un grande cambiamento in parte anche uno stimolo ulteriore ad utilizzare il digitale e quindi probabilmente anche un po' a ripensare speriamo in ottica innovativa le modalità stesse diciamo di portare avanti le proprie iniziative e le proprie attività in ottica di formazione delle competenze digitali. Abbiamo pensato ovviamente ad iniziative di formazione ma sappiamo bene che nell'ambito dello sviluppo delle competenze digitali quindi un ruolo veramente importante è quello della facilitazione quindi diciamo di un'attività che ovviamente rientra nell'ambito della formazione ma ha un sapore un po' diverso, più di affiancamento proprio delle persone affinché possano sviluppare queste competenze. Quindi abbiamo poi dettagliato il fatto che possono essere presentate sia iniziative di formazione che appunto iniziative di facilitazione e affiancamento. I requisiti fondamentali sono ovviamente il fatto che le iniziative si rivolgano alla cittadinanza abbiamo però previsto anche la possibilità che si rivolgano alle scuole e su questo vedremo fra pochissimo che c'è una categoria dedicata proprio a questo quindi una cittadinanza che ovviamente non ha limiti anche in termini di età e quindi con la scuola pensiamo di andare a coprire diciamo i segmenti giovanili anche della nostra popolazione. Come requisito possono essere iniziative che sono state realizzate o che sono in corso con diverse modalità quindi ovviamente potrebbero essere iniziative che si realizzano in presenza così come iniziative che si svolgono completamente online o anche in modalità blended quindi alternando momenti online e momenti in presenza. Vi dicevo è fondamentale per noi che siano iniziative piuttosto recenti quindi che siano cominciate al più tardi nel 2019 e potrebbero essere iniziative concluse ma anche iniziative che sono in corso anche se ovviamente occorre che siano già in una fase operativa e non soltanto progettate sulla carta. Ultima caratteristica fondamentale è proprio che siano erogate gratuitamente quindi che siano iniziative che non hanno scopo commerciale ma che appunto si pongono più in un ambito di formazione ed apertura. Le categorie del premio sono quattro quindi ogni ente potrà presentare una o più iniziative ma dovrà scegliere per ognuna di esse una specifica categoria quindi sostanzialmente la stessa proposta non potrà essere candidata in più categorie. La prima categoria è quella che abbiamo chiamato digitale per tutti che quindi vuole un po' andare a cogliere quelle iniziative che si rivolgono a un pubblico più ampio possibile e anche in questo senso indifferenziato quindi che si caratterizzano proprio per la loro ampiezza e per essere pensati un po' per tutti. La categoria digitale inclusivo invece dovrebbe raccogliere quelle iniziative che si rivolgono a specifiche tipologie di soggetti che normalmente sono anche quelli più a rischio di esclusione e di divario digitale quindi possiamo pensare ai senior, ai migranti alle persone con disabilità o alle persone fragili. La terza categoria è quella dedicata al digitale contro il divario di genere ci sono infatti molte iniziative che tendono a sono finalizzate a colmare il gender gap che ahimè utilizza anche l'uso delle tecnologie e che quindi si rivolgono in maniera specifica a donne, ragazze e bambine proprio per facilitarne e familiarizzarle anche all'uso delle tecnologie e perché no allo studio poi delle discipline STEM. La quarta ed ultima categoria è quella del digitale nell'educazione per le scuole quindi è quella che guarda alle iniziative di sviluppo delle competenze digitali pensate per studenti e studentesse o anche per gli stessi insegnanti. Le fasi del processo abbiamo pensato a cinque fasi che andranno a comporre il premio quindi la prima fase è quella di presentazione delle candidature che si è aperta formalmente lunedì scorso e che terminerà dopo due mesi quindi alla metà di gennaio è quella in cui ciascun ente può presentare la propria candidatura compilando il form online che è disponibile all'interno dell'ambiente partecipa e che fra pochissimo Michela ci illustrerà più nel dettaglio. Una volta che la fase di candidatura sarà conclusa ci sarà una prima verifica dell'ammissibilità delle varie proposte quindi una verifica più diciamo su un piano formale rispetto a quelle che sono un po' i criteri di ammissibilità che vi ho brevemente illustrato poco fa dopodiché tutte le candidature giudicate ammissibili saranno valutate dalla giuria e la giuria andrà a determinare le cinque iniziative finaliste per ciascuna delle categorie quindi dovremmo riuscire ad avere una cosa di venti iniziative in tutto sulle quattro diverse categorie. Questi venti diciamo finalisti verranno invitati a partecipare alla terza fase che è quella proprio di comunicazione quindi di visibilità dei progetti l'idea è quella infatti di realizzare dei webinar in cui ogni iniziativa finalista potrà essere presentata al pubblico in modo da averne una prima diffusione ma anche al fine di aprire poi la fase successiva che è quella di voto del pubblico infatti all'interno di questo premio è prevista anche la possibilità per tutti i cittadini e le cittadine quindi in un certo senso per i destinatari putativi di queste iniziative di esprimere anche il loro punto di vista attraverso un voto che si realizza sempre all'interno della piattaforma partecipa e che darà diritto a un piccolo bonus ora vedremo anche questo in dettaglio ovviamente il premio si conclude con la programmazione dei vincitori e che cosa si vince? i primi classificati delle quattro categorie riceveranno una targa appunto che attesta la vittoria nella propria categoria verranno inoltre invitati a partecipare a un evento finale di premiazione quindi un webinar che si svolgerà proprio nell'ambito più generale del progetto Repubblica Digitale e ovviamente saranno iniziative che riceveranno una certa visibilità e che diciamo verranno anche promosse all'interno della nostra rete e all'interno di quella che sono le attività di Repubblica Digitale e della coalizione vengo alla giuria che verrà nominata dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale che sarà composta da esperti dell'ambito della formazione dell'innovazione digitale esperti anche diciamo di quello che è il quadro teorico di riferimento per lo sviluppo delle competenze digitali quindi il quadro Digicomp a livello europeo e più in generale da rappresentanti del mondo dell'associazionismo quindi insomma tutte persone che conoscono da vicino anche le iniziative di sviluppo delle competenze digitali e che potranno quindi dare il loro punto di vista per selezionare le iniziative finaliste e poi decidere chi è vincitore i criteri che abbiamo pensato per diciamo che guideranno la giuria sono fondamentalmente sei e vedete sono in linea un po' con gli obiettivi del premio quindi il primo carattere che ci interessa è quello dell'innovatività quindi andare un po' a vedere con quali metodologie con quali modalità vengono realizzate le iniziative al fine di mappare eventuali esperienze che possono in qualche modo essere particolarmente originali il secondo criterio è quello tematico e quindi si va qui anche a vedere quanto e se è stato utilizzato un quadro teorico di riferimento in particolare ovviamente pensiamo sempre al DigComp e quindi a l'aver articolato l'iniziativa proprio a partire anche da una mappatura di quelle che sono le competenze che ciascun cittadino dovrebbe sviluppare il terzo criterio è quello della replicabilità quindi andare a capire se questa esperienza potrebbe essere replicata in altri contesti se i prodotti che sono stati magari realizzati all'interno dell'esperienza sono rilasciati in maniera aperta se quindi anche questa replicabilità viene incoraggiata da coloro che stanno realizzando l'iniziativa valuteremo poi la dimensione e l'impatto dell'iniziativa quindi anche il numero di partecipanti ovviamente in relazione a quello che era l'obiettivo atteso dell'intervento e andremo a guardare se sono state previste e applicate delle strategie di valutazione che riguardino sia diciamo il livello di gradimento degli utenti finali ma anche gli apprendimenti raggiunti quindi diciamo l'efficacia dell'intervento stesso l'ultimo criterio è quello sulla capacità di fare rete che quindi va un po' a vedere anche l'eventuale collaborazione la presenza di una partnership fra enti diversi per realizzare l'iniziativa e che quindi sarà ulteriore motivo di diciamo valutazione e di valorizzazione il voto del pubblico come vi dicevo concorre in qualche modo a individuare il vincitore per ciascuna categoria e infatti coloro che avranno ricevuto il maggior numero di voti popolari per ciascuna categoria riceveranno un piccolo bonus d'altra parte il voto del pubblico è anche finalizzato a individuare il vincitore di una categoria diciamo speciale quindi una menzione speciale che è proprio l'iniziativa più votata dal pubblico online quindi qui si andrà in termini assoluti e l'iniziativa che fra tutte le categorie ha raccolto il maggior numero di voti sarà quella che si aggiudicherà la menzione speciale io termino qui la presentazione e lascio la parola a Michela che vi farà vedere più in dettaglio mentre partecipa e quindi anche come presentare la vostra perfetto Michela attiva il tuo microfono non ti sentiamo ancora sta ok sta condividendo lo schermo eccomi buongiorno a tutti buon pomeriggio a tutti nel frattempo alcuni hanno già posto delle domande in chat invito tutti a scrivere le vostre domande alla fine i relatori potranno rispondere prego Michela grazie allora entriamo nel vivo dello spazio dedicato al premio come Forma S.P.A. abbiamo supportato il Dipartimento per la Trasformazione Digitale sia nella progettazione ma anche nella predisposizione dello spazio dedicato al premio come piattaforma abbiamo scelto partecipa.gov.it che è la piattaforma del governo italiano che è stata realizzata la prima piattaforma governativa dedicata ai processi di consultazione e partecipazione pubblica è una piattaforma che nasce nel 2019 su iniziativa del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento delle Riforme Istituzionali diciamo che in questa piattaforma le amministrazioni possono attivare processi di consultazione di coinvolgimento dei cittadini su determinate tematiche che sono state scelte per essere messe in condivisione e per coinvolgere diciamo i cittadini ma anche i portatori di interesse su una specifica tematica perché abbiamo scelto Partecipa? L'abbiamo scelto perché l'idea è quella di vedere questo premio anche come un momento di condivisione e partecipazione quindi oltre al voto della giuria come abbiamo visto nella presentazione di Isabella è stata prevista anche una parte in cui il pubblico partecipa quindi sia la possibilità di conoscere le iniziative ma anche quello di votare e quindi contribuire a dare un proprio giudizio a quelle che sono le iniziative che richiede di maggior prestigio o valore quindi c'è questo momento appunto di partecipazione da parte del pubblico ma vuole essere anche il premio un'opportunità per conoscere nuove iniziative che si occupano appunto di competenze digitali rivolte ai cittadini e come è stato detto ripetutamente nei precedenti interventi quindi creare sinergie e quindi anche la replica o comunque di iniziative anche in altre realtà quindi conoscendole si possono mettere in contatto diversi attori e comunque far sì che queste esperienze vengano replicate proprio per questo per dare valore alla conoscenza di queste iniziative abbiamo previsto degli incontri dei webinar il primo è questo che appunto vuole andare a presentare quello che è l'obiettivo del premio ma anche poi dei momenti successivi quindi avremo due webinar nelle fasi successive cioè dopo la individuazione dei venti finalisti questi finalisti saranno invitati a presentare le loro iniziative durante due webinar in cui potranno presentare nel dettaglio l'iniziativa e quindi è la fase diciamo preliminare poi per aprire le votazioni del pubblico questi webinar verranno registrati quindi poi nella fase successiva il pubblico dovrà ascoltare gli interventi potrà accedere sulla piattaforma partecipa e andare a votare comunque le iniziative che ritiene di maggior valore e poi è previsto anche un evento finale ovviamente di premiazione e presentazione ulteriore di maggiore dettaglio di quelle che sono state individuate come realtà insomma le esperienze vincitrici di questo premio quindi oltre appunto a a voler raccogliere quindi candidature di iniziative di sviluppo delle competenze digitali verso i cittadini il premio è anche l'occasione per per partecipare attivamente quindi seguire quelle che sono le iniziative che si sono svolte in Italia sulle competenze digitali dei cittadini e quindi andare a votare quindi è una partecipazione che riguarda sia in prima persona le le amministrazioni le imprese associazioni che vogliono presentare l'iniziativa ma anche un momento di coinvolgimento di tutti per conoscere quali sono le iniziative in Italia in questo settore e quindi poi anche partecipare attivamente seguendo il webinar e andando a votare le iniziative adesso vi volevo far vedere proprio nel dettaglio l'ambiente che abbiamo creato su partecipa l'indirizzo di partecipa è partecipa.gov.it questa è l'home page e in questa pagina vedete in basso quelle che sono i processi di consultazioni attivati su questa piattaforma ne vediamo altri due una sull'inclusione delle persone con disabilità una sui temi dell'open government e abbiamo la nostra che è il primo premio nazionale per le competenze digitali cliccando entriamo nell'home page dedicata al nostro premio ecco adesso vorreste vederla e quindi qua abbiamo il nostro spazio dove potrete trovare tutte le informazioni utili per per conoscere l'iniziativa nel dettaglio e poter seguire tutti gli aggiornamenti come vedete cliccando si crea diciamo un menu di secondo livello che vediamo qui con un header specifico dove vedete la grafica che è stata realizzata per il premio un titolo un sottotitolo e questo menu dove potete trovare il processo che è la home page dello spazio il modulo candidatura per appunto inviare le vostre candidature notizie e eventi per rimanere aggiornati su tutto quello che avviene gli aggiornamenti del premio e le fac quindi in questa prima pagina come vedete potremo anche mettere in evidenza gli eventi specifici del momento come in questo caso abbiamo fatto per il webinar e in questa pagina avete tutte le informazioni utili per conoscere nel dettaglio il premio insomma così come vi è stato anche presentato da Isabella potete anche visionare il regolamento che trovate anche in fondo alla pagina quindi ci sono delle informazioni generali ma ovviamente vi invitiamo poi a leggere e scaricare il regolamento in modo da conoscere l'iniziativa in tutti i suoi dettagli una parte importante di questa pagina è di questo spazio è sono le fasi proprio perché abbiamo visto il premio composto da diverse fasi sono cinque in questo box viene evidenziato appunto che siamo nella fase uno di cinque ovvero la presentazione delle candidature e vediamo anche la tempistica quindi dal quindici novembre dove sono state aperte le candidature al diciassette gennaio duemila e ventidue sarà possibile candidare la propria iniziativa attraverso questa funzionalità che adesso più tardi vedremo quindi cliccando su visualizza le fasi posso avere l'idea di tutta quella che sono le fasi del processo del premio quindi abbiamo questa prima fase in cui vedete è evidenziata in blu quindi man mano che passeremo alle fasi successive evidenzieremo quella attiva diciamo in questa fase diciamo questa è la fase ovviamente delle candidature quindi invitiamo a leggere il regolamento e per chi si vuole candidare andare a cliccare quindi sul modulo di candidatura che adesso vediamo nel dettaglio bisogna compilare circa venti campi e quindi è importante che la candidatura possega tutti gli elementi utili per far sì che la candidatura possa essere valutata poi successivamente dalla giuria quindi abbiamo tutta una serie di campi la maggioranza sono obbligatori come vedete dall'asterisco accanto alle domande e vi raccomandiamo ovviamente di andare a leggere tutte le istruzioni che vengono date nel dettaglio nei campi chiusi diciamo è più facile ma soprattutto poi nei campi aperti che serviranno in particolare appunto proprio per la valutazione vera e propria da parte della giuria che andrà a valutare secondo i criteri che abbiamo visto prima andrà ad assegnare un premio per ogni criterio di valutazione quindi vi invitiamo a compilare con attenzione tutti i campi in particolare a fornire una descrizione sintetica dell'iniziativa andando a leggere tutte le indicazioni che vengono date nelle istruzioni di dettaglio di ciascun campo in modo da appunto farci conoscere al meglio l'iniziativa allora la descrizione sintetica è molto importante perché poi rappresenterà la descrizione che servirà successivamente se l'iniziativa viene selezionata tra i finalisti per la scheda che il pubblico andrà a votare quindi particolare attenzione a questa parte della scheda dopodiché gli altri campi aperti sono proprio relativi ai criteri di valutazione quindi vi raccomandiamo di inserire tutte le informazioni che servano alla giuria per poter valutare e assegnare un punteggio a quel specifico criterio di valutazione che appunto servirà poi per stirare la classifica finale e individuare i venti finalisti quindi mi raccomando a descrivere bene le caratteristiche di innovatività dell'iniziativa l'articolazione tematica la replicabilità e la dimensione dell'impatto dell'iniziativa e la valutazione e se sono stati insomma previsti o effettuati in attività di valutazione dell'intervento e la capacità anche di fare rete con altre realtà del territorio qui potete inserire anche dei link che ci serviranno per andare a vedere su web il vostro sito o materiali o quant'altro però rimane il fatto che questi elementi sono ritenuti diciamo a corredo della presentazione della domanda ma quello che fa più fede poi sono i campi appunto che riguardano i criteri di valutazione infine diciamo cercando questa voce partecipando a certi tutti i termini e condizioni d'utilizzo significa che si accettano tutti i termini del regolamento e tutto ciò che c'è scritto sotto quindi poi cliccando su submit la candidatura viene inviata se ci sono degli errori ovvero non sono stati compilati dei campi obbligatori ovviamente il sistema restituerà un errore e richiederà di compilare i campi che sono stati lasciati nei voti quindi questa diciamo è la prima fase in cui appunto è possibile ed è attivo questo strumento modulo candidatura quindi che permette di compilare la candidatura nella fase successiva questa funzionalità viene disattivata e si attiva come abbiamo visto la fase di verifica e ammissibilità dei progetti e successiva selezione dei finalisti attraverso appunto la valutazione della giuria basata sui criteri che abbiamo visto prima che ci ha presentato Isabella finita questa fase che finisce il 10 febbraio vengono comunicati i finalisti e vengono appunto si svolgeranno i due webinar di presentazione delle iniziative quindi daremo anche un report della partecipazione e allo stesso modo daremo la possibilità ai finalisti di presentare le proprie iniziative attraverso degli speech molto veloci che però poi serviranno che verranno registrati e serviranno poi per pubblicare delle schede nella fase 4 cioè nell'apertura del voto del pubblico verrà attivata una nuova funzionalità voto ai finalisti che servirà per presentare le 20 schede dei progetti finalisti corredate dalla registrazione del webinar della presentazione che hanno fatto nel webinar e a quel punto i partecipanti potranno votare le iniziative che ritengono di maggior valore e ovviamente dopo essersi registrati alla piattaforma altrimenti tutti noi potremo votare n volte un'iniziativa quindi sarà necessario comunque registrarsi alla piattaforma attraverso questo pulsante in alto a destra accedi attualmente l'accesso è consentito co-speed a meno che vi siate già registrati in una fase precedente alla piattaforma partecipa prima dell'accesso insomma solamente unico co-speed così come richiede la normativa di accesso ai servizi della pubblica amministrazione quindi per votare sarà necessario accedere alla piattaforma e come abbiamo visto questo voto si va a sommare diciamo le classifiche dei finalisti più votati si andranno a sommare al voto dato dalla giuria e in più ci aiuterà a individuare l'iniziativa più votata dal pubblico quindi ci sarà una menzione speciale proprio del progetto più votato e più apprezzato dal pubblico e questa fase di votazione termina il 15 marzo dopodiché la giuria si riunirà nuovamente e sulla base delle classifiche che escono finali verranno individuati i quattro finalisti nonché la giuria si riserva di dare dei premi speciali delle menzioni speciali ai progetti che si sono distinti per particolari caratteristiche quindi oltre ai quattro vincitori verranno appunto premiati anche dei progetti particolari appunto che la giuria riterrà di voler premiare e al termine di questa fase che si conclude appunto entro il 30 marzo verrà organizzato l'evento finale in cui verranno presentati i vincitori e avranno anche la possibilità di fare un'ulteriore presentazione della propria iniziativa quindi queste qua potrete vedere le diverse fasi che si accenderanno quando diciamo sarà la fase attiva le fasi passeranno insomma ovviamente quando scadrà il termine il CCA7-1 sarà evidenziata la fase 2 che verrà anche evidenziata in questo box in alto sotto a destra nello spazio abbiamo previsto anche appunto una parte dedicata alle notizie eventi quindi in questo momento è presente solo la notizia del webinar dedicato appunto al webinar che si sta sfogendo in questo momento ma ci saranno anche altre notizie e aggiornamenti nonché notizie ovviamente dei webinar successivi che verranno organizzati quindi questa quest'area è importante perché appunto vi darà modo di seguire tutti gli aggiornamenti del premio abbiamo anche una sezione FAQ che abbiamo cominciato a strutturare e dove potete trovare le domande che abbiamo pensato possano essere quelle più ricorrenti e a cui insomma aggiungeremo altre man mano che riterremo opportuno vedremo delle domande ricorrenti che ci arriveranno nella casella di posta la casella di posta di riferimento è quella che ha indicato nello Iacono in precedenza e che è indicata comunque alla fine della pagina di presentazione chiamiamola l'home page del premio quindi a questa casella di posta potrete scrivere se non trovate risposte nel regolamento o nelle FAQ che abbiamo creato quindi a questo punto mi sembra già mancano cinque minuti al termine del webinar insomma l'invito è quello comunque di verificare se avete i requisiti per poter partecipare al premio ma comunque anche di poter seguire le iniziative di questo premio perché in qualche modo consentono di far emergere le migliori iniziative di sviluppo delle competenze digitali per i cittadini di conoscerle nonché magari di creare appunto nuove sinergie collaborazioni e progetti che speriamo insomma si moltiplichino nel territorio e a questo punto interrompo la condivisione perfetto grazie Michela e grazie a tutti i relatori allora ci sono parecchie domande in chat sono contenta perché ci consentirà di chiarire parecchi dubbi e quindi io inizierò a porle ai relatori nell'ordine col quale col quale sono arrivate allora la prima è questa Monica Gabato chiede siamo un'associazione che ha diversi progetti digitali in corso naturalmente forniremo un'attività gratuita ma essere iscritti all'associazione è un requisito fondamentale che però ha un costo annuale minimo vorrei capire se questo è compatibile o meno con il progetto chi risponde forse Isabella Bruni o Nello allora diciamo che immaginiamo che questa situazione possa essere abbastanza diffusa negli enti del terzo settore perché spesso realizzano attività che sono rivolte ai propri associati quindi l'attività è candidabile ovviamente questo dovrà questo dovrà essere specificato più che altro per chiarire che l'attività è destinata ai propri associati e quindi anche per delimitare il perimetro di azione e poi rendere più chiaro il diciamo l'impatto che l'iniziativa ha avuto perfetto un'altra domanda è saranno pubblicati i lavori dei vincitori a questo mi pare abbia accennato Michela Michela vuoi rispondere tu? Allora l'idea è anche quella di rendere conto di tutti quelli che sono i risultati del premio quindi sicuramente ci saranno delle notizie intanto che comunicheranno la partecipazione all'iniziativa quindi le candidature che sono state raccolte i finalisti quindi avranno appunto delle schede che verranno pubblicate sulla stessa piattaforma e per quanto riguarda i vincitori avranno la possibilità comunque di partecipare al webinar finale e di presentare loro stessi il proprio lavoro che magari consisterà anche nel dare dei link di eventuali piattaforme che vengono utilizzate di punti territoriali se si tratta di diciamo iniziative di formazione fisica e quindi direi assolutamente sì magari non saremo noi direttamente ma attraverso loro daremo comunicazione di tutte quelle che sono le forme e i lavori che sono stati realizzati dai progetti vincitori Perfetto ci sono diverse domande poste da docenti delle scuole quindi le farei tutte insieme allora Giuseppe Piepoli chiede sono un docente di istituto tecnico posso presentare un progetto sviluppato all'interno della mia scuola ed utilizzato anche nelle scuole di primo grado qua risponde Isabella sì allora ovviamente le scuole si possono candidare come istituti quindi non si candida il singolo docente ma si candida la scuola e nel caso magari sia stato realizzato appunto un progetto poi rivolto alla scuola di primo grado rientra diciamo in quelli che sono i criteri perché è un progetto diciamo io lo chiamerei quasi di peer education insomma perché una scuola di un ordine più alto si rivolge alla scuola di primo grado consideriamo che i progetti candidabili da parte delle scuole non sono quelli che riguardano il curriculum formativo standard ma sono progetti extracurricolari quindi qualsiasi tipo di progettualità ulteriore attività fatta nel pomeriggio laboratori attivati ex novo in partenariato con altre associazioni con enti locali eccetera eccetera quindi non non tanto appunto magari il lavoro che è stato fatto in questi anni dalle scuole anche per pensa la cittadinanza digitale insomma tutto quello che è curricolare ormai ma progetti extra vedo che già il professor Piacole ha risposto quindi insomma questo è un po' il taglio che avevamo pensato perfetto c'è un'altra domanda questa riguarda i tempi l'utente Civardi chiede sono un docente di scuola secondaria di secondo grado abbiamo sviluppato un percorso di cittadinanza digitale distribuito su tre anni stiamo sviluppando ora il terzo siamo partiti nel 2019 2020 mi pare quindi sia adeguato come requisito temporale corretto perché appunto per noi dovevano partire entro il 2019 e vale quello che ho già accennato prima quindi che ovviamente si deve trattare ora qui non abbiamo dettagli insomma di attività extracurricolari ma sono candidabili perfetto lo stesso utente chiede anche fa un'altra domanda e chiede mi pare di capire che l'iscrizione andrà fatta come scuola e quindi direi che la risposta è assolutamente sì esattamente corretto poi c'è una domanda Roberta Rocco chiede dei dettagli sul piano di comunicazione previsto per lanciare il premio e spingere le persone alla votazione allora chiederei a Michela se può riprendere magari le fasi e le date per questo sì sicuramente diciamo l'intenzione è quella di far partecipare di far conoscere le iniziative quindi verrà sicuramente attivata una campagna di comunicazione un po' come quella che stiamo facendo adesso proprio per far conoscere il premio e quindi cercare di far sì che le persone più possibile partecipino al webinar e si iscrivano a partecipa e di conseguenza possano votare le iniziative in programma ovviamente poi chiediamo a tutti un po' di fare la cassa di risonanza di questa iniziativa in modo che poi venga seguita e appunto si raggiunga anche quell'obiettivo di cui parlava anello di far conoscere comunque le migliori iniziative di sviluppo delle competenze digitali verso i cittadini al di là del fatto poi che si vinca o meno o che si arrivi tra i finalisti o meno perché l'importante è proprio fare sinergie e far sì che le iniziative si conoscano e che si creino magari anche delle partnership un'interoperabilità umana diciamo leggevo un articolo su agenda digitale pochi giorni fa che è molto interessante questa definizione che non è interoperabilità tecnica ma interoperabilità umana che è la base poi di ogni tipo di collaborazione partnership e cooperazione perfetto Giuseppe Piepoli chiede si può linkare il video del progetto nel modulo di candidatura Michela puoi rispondere tu direi assolutamente di sì si sarà presente un link quindi avremo una scheda che presenta una scheda sintetica dell'iniziativa data dalla registrazione del webinar dedicato proprio a quella specifica iniziativa quindi ci sarà una descrizione e un link alla registrazione quindi ogni scheda sarà corredata da questi due elementi test e video perfetto direi l'ultima domanda forse a cui non abbiamo risposto un partecipante chiede se è possibile dare la disponibilità a componente della giuria questa forse la facciamo Annello diciamo che si può anche appunto c'è l'indicazione dell'email si può andare diciamo che noi non non stiamo aprendo a candidatura proprio perché il numero dei componenti della giuria è abbastanza ristretto e quindi abbiamo già identificato appunto esperti come si diceva del di quella tipologia però diciamo suggerimenti possono essere sempre utili perfetto mi pare di non non vedere altre domande in chat quindi vi ricordo vi ringrazio per la partecipazione ringrazio i nostri relatori vi ricordo la scadenza per la presentazione della candidatura è il 17 gennaio però vi suggerisco di consultare bene la piattaforma al link partecipa.gov.it per vedere il regolamento le facche puoi fare il form di candidatura come diceva Michela vi ricordo di inserire tutte le informazioni che possono servire alla giuria a valutare nel modo corretto questa vostra candidatura quindi le iniziative che state proponendo è possibile come diciamo inserire dei link a video materiali ulteriori con questo vi do appuntamento sulla piattaforma partecipa consultatela perché troverete anche aggiornamenti e notizie anche la FAQ verranno aggiornate arrivederci a tutti e la registrazione del webinar da questo pomeriggio la trovate su Eventi PA buonasera a tutti e grazie grazie a tutti e tutte arrivederci